Direttamente da Pisa sono il video numero 8.748 augurando a tutti voi la migliore maturità, buona maturità Non si bozza, non si bozza Certo E' un giorno della maturità 60, per santo Mi raccomando, arriva a 100 video Iris, cosa ne pensi di questa maturità? 60 fa un'ora Tanto poi c'è l'università, vi fanno un culo così Speriamo Rimaremo qui Ciao Speriamo di passare E quanto prendiamo? Ciao 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 Buona Oh non ho fatto una chiave da arrivare Una maturità a tutti 100 giorni Sì Qui si sboccia, non si bozza Bomber 100 E 100 Topo 100 Massa passare con 60 Non ho parole Auguri a tutti Stiamo volando a voi per questo esame Vito in assoluto Ciao Speriamo di arrivare Andate a Lucca perché ci sono le mura Speriamo di arrivare Bocca al lupo No non ci arrivo a giugno Ciao 56esimo giro Ciao Com'è? Sono Andrea Manfredino Questa non si post E' un video Ciao E' un video Ciao E vabbè si avvicina Siamo delle gran fighe Sassiti Si sbira bene Si sbira di uscire su un bel bordo C'è Si sboccia o si sboccia Ciao 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 Di quanti giorni mancano? 100 100 100 Ciao Ciao Sto piovendo Esatto Ciao Sto piovendo, sono bagnata come un pulcino E forse questo Sì E' il centesimo video E questa è la mia super compagna di banco E volevo che questa fosse l'ultimo Esatto Ha corso cento volte intorno al battistero